I torri di 9 arrivi della M Flora sono Azzurra Iacopini, Anita Paperini e Giada Beccucci. Qual è il vostro primo pensiero e la vostra prima impressione che avete provato appena siete arrivate qui e dopo i primi allenamenti? Partiamo da Azzurra. È stata una bella impressione, un bello scoglio anche perché venivo da un'altra serie, una serie C, quindi sapevo che provare per la prima volta una squadra a una categoria superiore era un bel passo da compiere però per ora ho buone impressioni sulla squadra, sugli allenamenti e anche sui miglioramenti che sto facendo quindi per ora sono contenta, sono soddisfatta. Anita? Ho trovato un clima accogliente, nella squadra ci si sta bene e anche gli allenatori sono bravi. Te Giada invece? Conoscevi già qualcuno. Conoscevo già qualcuno, per me è stato un ritorno dopo tanti anni, per cui barcare la soglia della palestra è stata un'emozione, questo sicuramente. I primi allenamenti sono andati bene, stiamo lavorando tanto, per cui la strada intrapresa penso sia quella giusta.